carissimo signor rocchi ti devi solo vergognare tu e tutto il sistema arbitrale ben ritrovati amici bianconeri un saluto dal vostro bj non mi stancherò mai di attaccarvi non mi stancherò mai di colpirvi nelle giuste maniere maniere educate ma dovete vergognarvi e ve lo ripeto perché non si può multare un giocatore dopo non aver simulato dopo che il vice di rocchi ha dichiarato sull'ammunizione di con cesao c'è stato un errore e dopo l'errore cosa fate multate il giocatore in più lo squalificate lo stesso anziché fare un passo indietro e chiedere scusa abbiamo sbagliato dimettetevi sistema vergognoso sono sempre qui a difendere la mia juventus e a difendere il calcio da questo sistema ormai che ha deluso il calcio italiano e ha deluso milioni di tifosi lasciato like commentate e attivata la campanellina così non vi perderete ma è un video e siamo sempre live e lei se ne dice bene madame e messia e signore e signori ma i signori quelli veri quelli gobbi bianconeri della vecchia signora rieccoci qui un giorno sì un giorno non c'è bisogno di fare passi indietro perché sappiamo quello che è successo con cesao non assolutamente simulato perché addirittura andando a scavare era perfino calcio di rigore lo ha detto perfino pistocchi e se lo dice pistocchi signori miei che è anti juventino e allora credetemi credetemi che siamo arrivate al ridicolo ma ancora più ridicolo che il vice di rocchi va a openvar e dichiara c'è un errore c'è un chiaro errore non andava munito loro anziché fare un passo indietro e dire se abbiamo sbagliato togliamogli l'ammunizione come abbiamo fatto con lukaku in quel juventus inderi io non lo dimentico che avete tolto e gialla lukaku e poi lukaku ha giocato io non lo dimentico non lo dimentico che avete falsato una semifinale di coppa italia non lo dimentico mica ora davanti c'è la juve no non facciamo passi indietro abbiamo sbagliato ma l'ammunizione lo togliamo e in più multiamo il giocatore per comportamento non regolamentare antisportivo perché ha ingannato l'arbitro ma se avete detto voi stessa openvar che è stato un errore come fate a scrivere un verbale del genere cioè ma vi rendete conto voi non state bene con voi stessi il vice di rocchi dice che c'è un errore ma dopo 48 ore squalificano con se esau per doppio giallo e non solo viene multato viene multato somme risorse di 2000 euro ma non sono tanti 2000 euro è la doppia beffa di quando ormai questo sistema è ridicolo carissimo rocchi ma ti rendi conto ti rendi che ormai ti hanno scoperto ti hanno scoperto che c'è un sistema contro la juve è inutile che ti nascondi è inutile che poi a fine campionato dichiare la solita stronzata perché se c'è un errore è stato fatto a favore della juve lo puoi dichiarare anche quest'anno non ce ne frega niente perché siete voi che avete fatto odiare i milioni di tifosi siete voi o il vostro sistema che non va bene ancora una volta sotto gli occhi di tutti vi siete dimostrati vergognosi multare un giocatore che non andava neanche ammonito e scrivere nel verbale che ha avuto un comportamento antisportivo voi non state bene voi non state prima ne dite una poi ne dito un'altra poi tornate indietro poi andate avanti ma così vi rendete conto che non date credibilità al calcio il calcio ha perso di credibilità ancora una volta dopo questo episodio avete perso la faccia non vi resta che dimettervi togliervi dei piedi dare spazio a gente competente gente che non si lascia trascinare dal sistema che vuole fuori la juventus che vuole fuori la famiglia el cani che vuole fuori la famiglia agnelli questa è la verità oggi oggi questa è la verità e voi vi nascondete dietro un dito vergognatevi vergognatevi caro rock e tutto il vostro sistema c'è da vergognarsi multare un giocatore che non ha simulato però la cosa strana sapete qual è l'arbitro viene sospeso perché ha sbagliato ragazzi ma se l'arbitro viene sospeso perché ha sbagliato e viene sospeso da rock perché con se so viene multato per gioco non regolamentare comportamento cioè ma mettetevi d'accordo l'arbitro ha sbagliato viene sospeso ma allo stesso tempo con cesao viene multato e gli confermano il secondo giallo è vero sì che c'è stato l'errore anche il rigore non concesso alla juve sul fallo su savona lo sappiamo anche questo diciamo poi ha ha apportato rock irresponsabile dell'aia a sospendere l'arbitro ma allo stesso tempo se un arbitro ha sbagliato tutto come fate a non tornare indietro è successo in premier league un giocatore espulso poi si rendono conto a fine partita che c'è stato un chiaro errore dell'arbitro e hanno tolto l'espulsione il giocatore ha giocato la partita dopo con cesao per colpa vostra per colpa vostra non giocherà contro la lazio e questo è falsare il campionato perché togliete un giocatore alla juve ingiustamente ma io ora in questo finale di video mi rivolgo e sono costretto ancora una volta a rivolgermi a te carissimo john elkan noi tifosi siamo stanchi di farci passare con i piedi in faccia siamo stanchi elkan johnny basta basta johnny siamo stanchi siamo stupidi di essere umiliati da questo sistema ci negano rigori ci falsano le partite ci buttano fuori i giocatori ingiustamente ce li multano pure ci prendono a pernacchie e la società muta noi siamo stanchi noi siamo la juve ricordiamocelo piedi in faccia di nessuno punto e basta che sia chiaro noi siamo stanchi siamo stufi amici bianconieri amici del calcio con guido qui questo contenuto perché ho già detto abbastanza prima che esagero nelle parole ma non lo faccio mai perché mi ritengo una persona educata critico sfottò tutto ci sta ma non offendo mai amici bianconieri come sempre vi ricordo l'appuntamento di giovedì sera alle 21 diretta live per rispondere alle vostre domande qui sul mio canale youtube iscrivetevi al canale se questo video è stato di vostro gradimento condividete condividete questo video chi non condivide questo video è un interista punto e basta like commento e campanellina fino alla fine forza juventus e fino alla fine di questo sistema rocchi dimettiti forza juventus ossa benedica a tutti i picciotti io mi ne voglio salutiamo ciao ciao